eccoci qua fuori dalla sede goriziana di mt audio oggi vi andiamo a presentare la nuova sorgente della jvc il kv avx 8 e 30 abbiamo appena montato sul golf del nostro cliente eccole qua basseremo un po il volume intanto diciamo subito che una sorgente multimediale in quanto si può disporre di vari i vari appunto sorgente c'è la radio unità cd usb bluetooth compatibile con il cellulare e infine la vx qui sul nostro cliente abbiamo montato nell'accendisigari entrate audio video e anche un uscita video per eventuali monitor inoltre c'è la usb e qui che dobbiamo ancora finire c'è la uscita cuffie seconda uscita audio di questo autoradio si può dire che la qualità audio è ottima il setting è molto personalizzato ci abbiamo l'equalizzatore tre bande di equalizzazione modificabili no ogni banda c'ha c'ha quattro frequenze no quindi è molto personalizzabile potete memorizzare tre tipi di bande oppure ci avete quelle per definite la compatibilità con bluetooth è totale addirittura ci avete anche il si può anche avere la rubrica direttamente sulla sorgente no quindi è veramente compatibile con tutti anche i tipi di cellulare qui ci avete sia la rete la batteria eccetera eccetera no per le canzoni è anche molto facile scegliere tac no quindi sono una cosa anche abbastanza immediata diciamo che come rapporto qualità prezzo eccezionale in quanto si va a spendere follie ultima cosa si può anche regolare l'inclinazione del tutto quanto il nostro cliente l'ha già vista è molto soddisfatto è un acquisto che noi di mt auto consigliamo a tutti quanti voto sicuramente anche in base al prezzo è 10 perché è veramente molto molto valida dall'officina di mt audio è tutto ci mettiamo un dvd ci vediamo alla prossima